Una divina inimitabile è stato poi il titolo della riflessione che nell'edizione di quest'anno di Grandi Donne all'Opera, Davide Steccanella ha dedicato all'inimitabile Maria Callas. Davide Steccanella, la riflessione, diciamo consueta per l'8 marzo, ma non consueta oggi per le grandi donne per quanto riguarda l'opera, ecco, su chi è incentrata? Io cercherò di dire qualcosa su un'artista che è stata forse la più grande artista del secolo, che è Maria Callas, che viene ricordata come una grande cantante, ma cercherò di spiegare perché secondo me è stata soprattutto una grandissima artista, prima ancora che una grandissima cantante. E quindi cercherò di dire qualcosa su questo personaggio immenso, una donna, una donna immensa. Ecco, bisogna essere grandi anche umanamente per diventare grandi anche come artista o non è così necessario? Eh, nel caso della Callas forse no, nel senso che, almeno da quello che si sa, io ovviamente non ho conosciuto Maria Callas, però da quello che si sa delle biografie, di chi l'ha conosciuta, sicuramente è un caso di persona, sicuramente molto più importante per i risultati artistici che per gli aspetti umani. Forse in quel caso l'artista ha prevalso sulla persona, però ripeto, io non l'ho conosciuta personalmente, mi baso sui racconti di chi l'ha conosciuta e frequentata. L'ultima domanda riguarda, se volessimo definire proprio la protagonista della riflessione di oggi con due o tre aggettivi, che aggettivi dovremmo trovare? Beh, direi che più che un aggettivo sicuramente la Callas è stata il più grossa conquista della forza della volontà. Cioè la Callas era una donna che non era bella, non era ricca, non era colta, era anche abbastanza grassa ed era una persona senza nessun tipo di substrato. Ed è riuscita a diventare con la forza di volontà probabilmente, anzi sicuramente, la più grande artista del Novecento. Quindi questo direi la cosa che ha la caratteristica di più. Direi quindi determinazione, scrupolo e anche dedizione, i termini per chiarirlo.